Andiamo a presentare il Vaio Duo 13, che è un convertibile, può essere usato in qualsiasi maniera o come modalità tablet, come in questo caso, o come modalità PC, con una tastiera che magicamente appare, addirittura con un mini touchpad disponibile. Le connessioni sono quelle di un PC assolutamente standard, perché è un PC standard, quindi l'USB, l'HDMI, l'alloggiamento per la SD card e addirittura il modulo LTE per alloggiare una schedina di comunicazione. Anche qui, come gli altri prodotti Sony, può essere utilizzata la penna, che può essere facilmente riposta al suo fianco, oppure può essere riposta tipo calamaio, nel momento in cui sto alla mia scrivania. Gli utilizzi sono molteplici, dal browsing o dalla connessione veloce in modalità tablet a quella più produttiva, fatta con la tastiera e diventando un PC a tutti gli effetti. Il materiale è un materiale nobile, comunque sulla base di una fibra di carbonio e la produzione viene interamente fatta a Tokyo, in Giappone. Prezzi a partire da 1,499.